L'immersione sulla secca del tinetto può essere affrontata con estrema semplicità, purché le condizioni marine siano ottime. Rappresenta l'immersione più a sud dell'area marina protetta di Porto Venere, oltre l'isola del tinetto. Il percorso ha inizio dalla sommità del monolito, per poi scendere rapidamente lungo il fianco meridionale. Più in profondità si trovano una notevole varietà di gorgonie, oltre ad esse aragoste e gronghi. Ad una quindicina di metri un ampio arco di roccia è completamente tappezzato da margherite di mari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.